benvenuto o benvenuta in questo rilassamento profondo e completo dove insieme andremo a rilassare tutte le parti del corpo cercando di dissolvere completamente tutte le tensioni tutte le contratture che sono rimaste incastrate nei nostri muscoli nel nostro sistema nervoso tutte quelle preoccupazioni che sono rimaste nella nostra mente inizia a respirare lentamente procedi completando in tutta la sua interezza il tuo prossimo respiro riempi completamente i tuoi polmoni fino a che non ci sta più neanche un briciolo d'aria in più e poi espira butta fuori tutta l'aria svuotandoti completamente continua a ripetere questo processo ancora per qualche respiro con città cediti tutto il tempo necessario incompleta assenza di fretta respiri 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 e ti rilassi completamente 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 è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci fosse un'energia di colore azzurro che aspetta semplicemente il tuo consenso per viaggiare dentro di te e rilassare completamente ogni parte del tuo corpo. Si trova lì, alla base dei tuoi piedi, che aspetta semplicemente il tuo consenso. Se sei d'accordo, accoglila e iniziamo questo rilassamento muscolare profondo. La luce entra dalla base dei tuoi piedi e inizia a scaldare andando a rilassare le dita dei piedi, la pianta dei piedi e le tue caviglie. In questa giornata faticosa, i tuoi piedi hanno bisogno di un grande riposo e adesso permetti a questa luce calda di scaldare i piedi del tuo corpo e di rilassarli andando a sciogliere la stanchezza la fatica e la tensione. La luce continua a salire riscaldando i tuoi polpacci e le tue ginocchia. Le tue gambe hanno bisogno di riposo le gambe sono una parte del corpo dove si accumula tanta tensione e adesso con questa calda luce curativa puoi finalmente rilassarle e sciogliere tutta la tensione che era rimasta incastrata all'interno dei muscoli delle tue gambe. nel frattempo nel frattempo sali verso i quadricipiti verso le cosce fino a raggiungere i tuoi fianchi la parte inferiore la parte inferiore del tuo corpo si scalda e si rilassa completamente e si chiama la parte inferiore e si tratta di un'altra parte e si tratta di un'altra parte e si tratta di un'altra parte pulita e di guarigione a tutta la parte inferiore del tuo corpo, che adesso è immersa completamente in questa luce calda curativa. La luce continua a salire, andando a scaldare la tua pancia, la tua schiena. E' il tuo petto e in questo calore il tuo respiro si rilassa e diventa sempre più calmo, sempre più tranquillo, sempre più leggero. Nella tua pancia, nel tuo petto e nei muscoli della tua schiena la tensione e le contratture si sciolgono, si snodano, si dissolvono. E tu respiri e ti rilassi, mentre la luce si sposta, passando tra le tue spalle poi verso i gomiti, poi fino ai polsi e infine nelle mani inondandoti completamente fino al collo, in questa luce calda curativa che ti fa sentire sempre più leggero e rilassato. La tensione è solo un ricordo e il tuo corpo si scioglie completamente, nel rilassamento più profondo. La tensione è solo un ricordo. La tensione è solo un ricordo. non ti rimane che rilassare la parte superiore del tuo corpo, permettendo alla luce di passare attraverso il tuo collo e la tua testa, sciogliendo la tensione nel tuo viso, rilassando la tua mandibola, i tuoi occhi, i muscoli delle tue guance, degli zigomi, le sopracciglia, la fronte, i capelli, fino al centimetro più alto della tua testa, immerso completamente in questa luce calda e curativa. Sei in grado di rilassare completamente il tuo corpo. Lasciati andare. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Immerso in questa luce curativa Sei in grado di sciogliere anche Tutti i tuoi pensieri E tutte le tue preoccupazioni Andando completamente A svuotare la tua mente Da tutto il contenuto Che si trova ora all'interno Lasciandoti In uno stato di semplice Presenza E osservazione Dell'adesso In questo istante Dimentichi la tua identità Il tuo aspetto La tua storia I tuoi ricordi Sei pura consapevolezza Che osserva Il proprio respiro Che osserva L'energia vitale Nel proprio corpo Che osserva 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 L'energia vitale Adesso, in questo stato di grande consapevolezza, mentre il tuo corpo e la tua mente sono completamente rilassati, puoi scegliere di sciogliere la posizione e terminare la meditazione o di abbandonarti ancora di più a un rilassamento così profondo da portarti ad addormentarti e a intraprendere un viaggio all'interno del tuo inconscio più profondo. La scelta è solo tua. Molto bene, se hai scelto di terminare la meditazione, ti ringrazio e ci vediamo alla prossima meditazione. A presto. Namastè. Se invece puoi continuare questo rilassamento addentrandoti in un sonno profondo e ristoratore. seguimi, ti accompagnerò all'interno della tua mente in un viaggio profondo dove ti addormenterai e ti rilasserai sempre di più. Andrò a contare da dieci fino a uno. immaginati che ad ogni numero scendi da una scala e arrivati a uno ti strai in un letto di nuvole. molto bene, iniziamo dieci nove nove otto sette sei sei cinque quattro uno due uno zero lasciati cadere in questo letto di nuvole con estrema fiducia come se ci fossero delle mani a prenderti e ad adagiarti lentamente sul cuscino respira sei al sicuro buonanotte da il non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.